Siediti. Sei pronta a metterti in gioco? Sì. Sei disposta a condividere le tue idee? Sì. Saprai lavorare in team? Sì. E allora sei dentro. Space Up Challenge 2014. Partecipa anche tu con noi all'evento dell'anno. Unisci Passione Ingenie in una delle 50 challenges. 96 locations spazi in 4 continenti. È aperto a tutti, studenti, ricercatori, professionisti di ogni settore. È la ripresa? È quasi perfetto, sì. 12-13 aprile, Facoltà di Ingegneria Aerospaziale, Università di Roma La Sapienza. Vi aspettiamo!